Ciao a tutti ragazzi, allora oggi continuiamo con il nostro Borderland Pre-Seguel Dopo aver finito finalmente il nostro Dragon Ball ho deciso che riprenderemo con questa serie Quindi quando avrò completato tutti gli episodi anche di Borderland Magari completerò qualche altra serie che ho lasciato in sospeso Però visto che mi è stato anche richiesto magari di fare altri episodi di Borderland Ho deciso di continuare questo Allora, prima di tutto mi conviene teleportarmi e acquistare un po' di oggettistica Visto che abbiamo consumato un po' di cartucce, un po' di tutto nell'ultima sessione Poi ho dovuto anche riguardarmi il video perché non mi ricordavo assolutamente dove ero arrivato Perché è normale, un sacco di tempo non si fa una cosa, non ci si può ricordare tutto Ma fortunatamente io tengo sempre una copia dei miei video quindi posso riguardarmeli con molta calma Vediamo un po' dove eravamo rimasti, vediamo un po' che zozzeria ci abbiamo C'è un sacco di roba da buttare, veramente parecchia Allora, vendiamo prima di tutto Bazzucca mi serve, questa non mi serve Meglio che granate ho Mi fa un po' schifo Mi conviene comprare o mettere una di queste Vediamo un attimo Comprerò sempre le armi che non ti servono Allora Prendiamo questa, sembra la migliore Armi Ho quello che vi serve Anche questo scudo sembra meglio Vediamo un po' mio Fai un culo così, ok? Eh sì, però questo è d'oro Sinceramente preferisco tenermi questo che mi dà dei bonus piuttosto vantaggiosi Compra un'arma, forza! Quindi Questa non è male Fa pure danno da ghiaccio Quanto costa? Un botto, non ho i soldi Non abbiamo i soldi da spendere Per questa cosa Non è che non mi vengo il Bazzucca, ma Bazzucca mi serve Questa pistola Questo non può essere utile Vediamo un po', avevo messo via Qualche oggettino Con possibilità di vendita Intanto prendiamoci i soldini che troviamo in giro Eh, tu sai sempre qualcosa Ma in realtà non sai un tubo Abbiamo un sacco di armi Questa non la posso usare Questa non è male Pure d'oro Questa non vale un soldo Questo è quello scudo shock che ho ottenuto Perché Può succedere che Mi sbagli E me lo venda Questa quanto vale? Non vale nulla Beh, visto che ci siamo Questo me lo piglio La macchina non vale un po' Se non lo inserisci dentro persona Questa non vale un po' Questa non vale un po' Questo fucile Stai mai provendo entrambi Non lo so Boh, io sto cosmo Lo vendo sti cavoli Mo' dovrei avere Abbastanza soldi Aspetta Apriamo questa data di cofanetti Vediamo qualche altro soldo Gli idioti della Helios Oh, degli attrezzi da qualche parte Armi, armi, armi Perché? Ah, mancano un po' di speech Vabbè, vendete pure questo Perché confronta Vendi, lo non rompe Vai, sforacchia qualcosa Ne ho sempre di nuove Torna più tardi Senza il sindrifo Chi è che comanda? Il sindrifo Ma ricarica pure bella veloce Non male, non male Sembra un buon acquisto Non troverai merce migliore da nessun'altra parte Me ne sono assicurato Vabbè, accontentarò di quello che c'è Attenzione, ambiente privo d'aria Avviso, ingresso in atmosfera ospitale Quella sera la mamma fece come al solito Mi tirò un bicchiere Provai a prenderlo al volo Ero diventata brava ad afferrare la roba che mi tirava Ma mi rimbalzò sulla mano e colpì il cane Non così forte da fargli male Ma i suoi occhi diventarono ancora più rossi Le labbra ancora più blu Con la bava alla bocca si lanciò contro di me Mi affondò i denti nel collo Mentre urlavo sentivo il papà che piagnucolava Il cane ringhiava E la mamma rideva Quando papà mi ebbe medicato Presi una pala e spaccai il cranio al cane Vuoi sempre fidarti Della tua arma Vabbè, tanto non abbiamo soldi Li abbiamo spesi A presto No, vabbè, però qui abbiamo trovato altre Altro po' dei cibari e qui Dei munizioni Non so sempre meglio averle Perché Non abbiamo soldi per comprarle Speso tutto per questo fucile Quindi Spero che Mi venga ripagato In danno, ovviamente Perché Prometteva bene La Drakesburg è un relitto proprio succoso È un ex fregato ad Hall Lo sai Scommetto che è piena zeppa di tecnologia da fregare Finora a Bosone e Skipper Mi hanno tenuto a bada Ma adesso che ci sei tu Le cose cambiano Cosa? Congelato Super congelato Congelati e felici E' un povero bastardo Mi valeva davvero la pena Un'arma eccezionale Sotto il mio punto di vista Si Non Perlamenti Sotto il mio punto di vista Non Non Si Cosa Non Io No No Non Non e segnalavo niente giustamente se uscire è bello potente però l'avevo messo via perché ci metti x a fine munizioni lascia via proprio ma non mi permette che ti trusso ok qua c'è che carini perfetto bel po' di pietre lunari non le butto certo via ovvio tutto pure la roba bianca che qui so soldi mi attacco a tutto qui c'è c'è fiadellosi stronco comunque questa arma consuma un sacco di munizioni forse è un po' troppo aspetta queste non so i cartucce per fuci la pompa ah no è una una cosa anche i tos prendiamolo su soldi che volete un fiorino ciostri vedo un tubo guarda che t'ha ammazzato sotto banco guarda che t'ha ammazzato sotto banco hai in la Siamo già un cazzo. E a sguincia sguincia ci resta secco. La Drakesburg a quanto dicono è una vecchia nave da guerra ad Al precipitata prima della Grande Crepa. Ora ci vive un gruppo di razziatori puzzoni comandati da Boson e dalla sua amica che chiamano Skipper. Sembra che nessuno l'abbia mai vista. Il che è molto strano. Comunque trova il modo di entrarci e non temere di fare amicizia con quelli del posto lungo il cammino. Non si muove. Io sono veloce, tu sei no. Alta qualità, bassi prezzi e nessuna domanda. Ricorda, siamo sempre aperti. Oh. I fissi effetto. questa che è cosa congelata vabbè meglio congelato oggi che congelato domani ti senti sovraccarico di soldi? grazie per i soldi beh non so così sovraccarico di soldi non montarti la testa incantevole sono sicuro che lo rifaremo abbastanza presto infatti dopo ho andato a dormire non stavo così bene da quando è morta mamma dai attenzione ingresso mi piace benvenuto cliente che ti aiuti a uccidere molte ricorda siamo sempre aperti eh lo so che siete sempre aperti peccato che io non che sono sempre pronta a spendere soldi dei cartucce sono pieno non importa facciamo senza punti fa boom ma non importa non ho ma non ho ma 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 perchè non esplode il ponte facciamo il tiro attenzione riservi d'aria al 50% la griglia con aceto e un foglio di giornale quello è congelato ma io ho congelato oggi e 12 gelati domani l'antarcelato mica lo pagavano noi allora dove erano prima questi spendiamo un po' di punti prendiamo un altro punto mi serviva come il pane dove esso sta Sì, sì. Che strano. Sì, ti piace l'idea? L'avevo detto, no? Favoloso, adesso che si fa? Hai fatto bene a chiedere. Il ponte ha un comando manuale qui vicino. Carico la posizione sul tuo eco. È quel piccolo vicido ladro piccolo che sento? Se stai con lui ho una mezza idea di farti venire qui per strapparti le gambe e mandarti a fare una corsetta. Ascolta, tu e il ragazzino state lontani da qui. È l'ultimo avvertimento. È una tua opinione. Ok, che mi dici di questo? Ho appena fatto saltare l'unico ponte. Adesso come farò io ad attraversare quella lava mortale? Era l'unico ponte anche per noi. Devi scaricare il metano dei serbatoi nella lava. Lo raffredderemo. Creando così un passaggio. Sarà fichissimo. Ti ho aperto il ragazzino. Se tu o il tuo cacciatore della cripta provate a fare scherzi, indosserò i tuoi bulbi oculari come orecchini. È quello il tuo sagace piano. Cazzuriti. Solo un piccolo contrattempo. Ho già un'altra idea brillante. Penso che le nostre definizioni di brillante siano diametralmente opposte. La stazione di pompaggio del metano è stata chiusa dopo la grande crepa. Ecco perché non c'era metano nei serbatoi. Dobbiamo riattivarla. Così risolveremo tutto. Condobbiamo, intendo, Devi. Tu fa tutto, io non so. Fantasia. Fammi sapere se qualcosa cattura la tua attenzione. Adoro questo posto. Mi sembra più preoccupato con un po' di soldi. Tanto che ci serve per acquistare un po' di minacino. Posso tenerti al sicuro nei tuoi... Arrivederci amico. Se fai comprare altrove ti faccio un... Attenzione, atmosfera assente. Grazie a tutti. un povero bastardo comunque qui questo tipo di fucile è buono fino a un certo punto vai a più sangue un povero bastardo Attenzione, livelli di ossigeno dimezzati Che soffra? Un piccolo scalatore? Tanto sta lì a saldo con piene scende Sto affinando l'aria, oltretutto Pericolo, verme, ossigeno esaurito Ho ancora qualche asso nella manica Maniche, direi Ce ne sono due Odio essere respiro Ti metto le dita come spunti Fuori dalla mia cucina Ai tuoi progetti Resta e raccicimi ancora Oddio Reni Non funziona più Lascia stare la mia torretta Resta e raccicimi ancora più No, questo proprio no io credo se è solo preciso attenzione riservi d'aria al 50% avevo appena finito di pagarlo ahhh tiè mi fai niente di questo la granata balza all'un balza all'un balanza all'un balza all'un balza non l'avevo finito ma no male che non hai finito te non finisci mai ti senti sovraccarico di soldi? grazie per i soldi incantevole incantevole un piacere come sempre non morire mi servono i tuoi affari allora ragazzi visto che qui c'era il punto di salvataggio ho deciso che concludiamo qui il nostro video come al solito se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace noi ci vediamo alla prossima e da Rizzenk anche oggi è tutto ciao ciao